Buongiorno, sta per iniziare il Consiglio europeo. Oggi e domani saranno giornate piene, dense di attività e di lavoro. La cosa importante è che ieri c'è stato questo passaggio parlamentare che ha sancito la coesione delle forze di maggioranza, un passaggio che dà un chiaro mandato all'Italia a partecipare ai lavori del Consiglio europeo per completare questa riforma del MES, ma soprattutto in una prospettiva futura per poter recitare un ruolo da protagonista per la nuova stagione innovatrice che si annuncia in Europa, che si realizzerà con la conferenza sul futuro dell'Europa. Quindi l'Italia potrà esprimere questa energia innovatrice, potrà contribuire a rinnovare le istituzioni europee e dare nuova linfa al sogno europeo. Ancora è una giornata importante questa perché siamo in dirittura finale. Confidiamo di poter superare il veto di Polonia e Ungheria per quanto riguarda i recovery fund. Siamo nelle ultime ore, c'è stato qualche segnale di avvicinamento e questo sarebbe importante, sarebbe importante sbloccare quindi i 209 miliardi che servono alla comunità nazionale. Confidiamo di farlo in queste ore. Grazie.